buonasera a tutti e qui ci si trova siamo devo fare la challenger che penso sia si sono andati tutti lì quindi questa è quella medievale haigland va bene cerchiamo di fare qualcosa vai questa l'hanno già schioppata fare le challenger con tutta questa gente dove andranno io vado la sempre la cosa difficile difficile più o meno tutti sono il number 1 perché il mio personaggio da che ce la fa è a livello 10 perfetto stanno stanno sparando via prima volta in assoluto che entro qua dentro infatti mi sono già perso è buono oh c'è già uno qui seguiamo sti forse lo sa ah è lassù ma ultimiamo ah è vero col destro lo stun ah è vero in quelli range ci sarebbe anche questo tecnicamente si ci sarebbe anche questo perché lui può usare anche l'arco che è un boss qui che è boom no non era un boss seguiamo questi tizi ma neanche questo è un boss ah qua bisogna andare di sicuro diventa venire qua sopra merda l'hanno già fatto e non c'era boom per te c'ho un altro ho fatto andare lassù ah forse bisogna continuare a girare esatta mount facciamo stare sti bastardi e continuiamo a andare in su bisogna rigirare e partito le trappole quindi c'è una corona un trono non sono questi non ci incasta nulla questi forse è meglio le spade col boom ranger oh sono salito di livello buono sono a livello 11 fammi entra fammi entra è raggio è raggio ulti va ulti molto utile guarda il bottino qui ma non c'era una sega ah ecco no non c'era una sega quindi ne manca solo una andiamo a far quella la wow 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 state buone eh tanto finchè non non come si dice fino a quando non non sono in un number number 5 e 6 penso che non ce la fò mai a far quello da 40 poi o trovi un bioma enorme qui non ho mai trovato il modo ah è qui più facile del primo non mi ha fatto no c'è uno che lo sta facendo però testa a pinolo è laggiù guardalo vai ci vuole più andare giù per riusci oh insomma ce n'è tanti là eh guardiamo un po' se ci si fa bisogna andare laggiù dai dai forse ci si fa eh manca più di 10 dungeon non ce la farò mai qui ce ne sarebbe uno non so da dove cazzo entra credo è primordial frame non me ne frega niente oh lì c'è un boss ulti stunniamo il boss se ce la fa stunna il boss poi il resto il resto è storia un colpetto un colpetto non era un boss questo oh lì qui c'è oh vieni meno male un po' di polli oh bello giocato così no non mi schiappo neanche e andiamo e andiamo e mi cura un po' ah è andato è andato è andato ah no che coglione per quanto quanto mi manca di vita e vabbè allora si che non ce la faccio più si non ce la puoi fa vediamo che drop mi hanno dato però b oh bellino oh 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 questo mi da vita rigenerazione e stabilità questo mi da massima vita e laser marker e basta ci guadagno solo qui niente abbiamo qui una sega e un'altra sega buono 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 qui non c'è una piazzola neanche a pagare l'oro si c'è quindi gente questa puntata finisce qui ci vediamo alla prossima dove faremo una nuova challenger buona grazie